E riprendono i posti, i giocatori. La palla! Prego! Prego! Dice addio, bisogna recuperare la palla. Palla di Guarana, pronti per lo scatto. Fischio d'inizio, quarto tempo, 7 a 5. Sette minuti che non partono, partono adesso. Palla di Daniele, la passano. Palla di Daniele si distrae e si trova. Palla di Daniele si distrae. Palla di Daniele. Palla di Massi. Il tiro deve ancora scavalcare. Viene Matteo Stefano. Continua Stefano, la sua corsa. Cambia sulla destra per Di Carlo. Di Carlo tira e il portiere si tuffa. Bella palla. Di parte di Daniele, noi non rientriamo a fatica. Palla viene scavalcata dal giocatore di Daniele. Qualcuno dovrebbe stare su di lui. Bellissimo, bellissimo il tiro di Stefano a fil di pala. Deviato dal portiere, ma non viene concessa la rivista dal fondo. Ripatto il portiere dell'Ancona per... Non è scavalcata. Non è scavalca. Non si riempa a palla. L'anticipano. Comincia la scavalcata davanti. Al centro troviamo Eman. Eman. Bellissimo tiro di Massi. La palla ripalla. Prende la traversa. E Daniele riceve il palla. Viene degretato il ritore dall'albico. Palla Diego. Diego si tira un po' troppo indietro. Per batteri. Viene gialli. Pronto a tirare. Tira. Porta in porta. Palla. Braccio del portiere. Tutto. Trascina. Trascina tutti. 9 a 5. Questo. Quarto tempo. L'Ortigia continua a suonare le trombette anche se la partita è finita. Probabilmente. Probabilmente. Hanno dei. Probabilmente qualche problema. Nel. Farli smettere. Non so. Dunque. Si riparte. Pronto. Signor. Con. Flaio. Che prova. A. Contra stare. L'attaccante. Massi. Viene. Torri ha fermato fallosamente. Ma. In realtà. Il palla è contro. butta la palla in mezzo l'Ancona ma è il doppio di Alessio e Stefano Stefano prende la palla e la butta sulla destra viene, viene, oh se non molla la palla è difficile che gli dà la punizione viene purtroppo questa cosa, come ho detto anche prima povesciamento di fronte, da solo il giocatore numero 5 dell'Ancona e il dono per la squadra bianco-blu esce Alessio entra il numero 2 Emanuele Sasso palla a Latini, Stefano attaccato attaccato e allarga su Emanuele Emanuele prova, raggiunge Diego con un tiro sulla destra Diego non riesce a seguire Massi davanti alla porta si prende pallo lungo l'invio del portiere dell'Ancona per il numero 6 Massi rovescia sul giocatore permettendo fallo l'espulsione di Emanuele 9 a 7 e l'Ancona ha 3 minuti dal termine spera di agguantare il pareggio pallo ai danni della calotta ha tolto la calotta no Massi tiro della porta no non riesce a entrare Diego prende la palla segno 2 minuti dal termine 2 minuti dal termine 2 minuti dal termine pallo abbattuta di 9 a 7 e l'Ancona ci va avanti sulla sinistra attaccato da Leonardo prova a recuperarlo e viene espulso è da solo il giocatore di Emanuele che prova a coprirlo prende il palo e naturalmente con un tiro molto forte prende il palo Manuel tiro lungo per Massi Massi per Daniele Daniele e segno Daniele 11 a 7 cambio entra il numero 11 Gabriellino Cappellini esce Alessio Alessio Misteri numero 18 batte la palla ancora subito cerca di servire il numero 11 che abbiamo visto dotato di un buon tiro allarga l'Ancona cercando di usare tutto il campo a sua disposizione ma il numero 7 è poi trattato da Diego che commette palla e prende in funzione perché non dà la distanza per poter battere ora il super dell'America la formazione in calotta bianca che arriva davanti alla porta e il tiro è subito bloccato e deviato da Stefano torna la palla a Manuel che cerca con un rimbalzo di servire Daniele sulla destra che gira la palla Massi sulla Massi che è tra Cappellini Cappellini sulla sinistra purtroppo il tiro fuori mancano 50 secondi al termine della partita l'Ancona 15 a 7 quindi sotto di 4 segnature prova a tenere alta la bandiera Massi Stefano Cupopalla la passa a Massi che affonda vedendo Cappellini gioco tra Cappellini e Macedonia e peccato Daniele prova che Cappellini prova un pallonetto ma la palla va oltre la tramezza riparte l'Ancona provando un tiro e trovando il gol con il numero 5 a 12 secondi dal termine quando la rete dell'8 dell'8 11 a 8 mancano due punti scarsi al termine e alla battuta Diego viene invitato il giocatore numero 9 dell'Ancona a uscire dal campo per entrare in una zona d'accanto finendo il tempo si dice che viene tirata la palla fuori cappellini di grande palla e finisce così 11 a 4 il match contro l'Ancona grazie a tutti